Perché Autovia Venete è partner di State of the Net? Innanzitutto perché è un'opportunità molto di alto livello per la formazione, per imparare come con tutte le nuove tecnologie, con tutte le nuove modalità e i nuovi strumenti di comunicazione si può sviluppare una relazione migliore con l'utenza, con il territorio, per valorizzare il lavoro di chi vive e opera all'interno di Autovia Venete.